Ci alleniamo sempre allo stesso modo, l'umore è sempre alto, sicuramente quando vinci è più alto, si scherza di più, però nello spogliatoio comunque ci si trova bene come prima. E' ovvio che i risultati aiutano a stare bene e quindi a volte vengono anche con un po' di fortuna, un po' di casualità e quello è quello che secondo me ci è mancato in queste quattro giornate, un episodio positivo da cui partire per poi vincere una partita. Quando una squadra gira bene, come prima che io entrassi in squadra e poi anche quando ci sono stato io, è normale che è più facile avere continuità e quindi se non ci sono grossi errori, problemi fisici, di solito la formazione è quella. C'è stato questo momento di stop che mi ha fatto solo un paio di punti nelle ultime partite, quindi giustamente c'è stata anche un po' di alternanza fra me e Lopez e quindi se sarà di nuovo il mio turno cercherò di fare come sempre il massimo quello che riuscirò a fare, dare il mio apporto alla squadra come sempre. Il fatto di avere il centrocampo a tre, quindi avere un mediano basso e due mezzali, ovviamente anche in base agli interpreti spesso sono stati usati magari del Pinto e Cipsa che fanno della loro forza la corsa e l'intensità magari è meno la capacità tecnica o la finalizzazione della giocata, quindi magari loro riuscivano a prendere palla dove prima la prendeva Falco e la differenza sostanziale è che uno ha un'ottima capacità tecnica e visione di gioco e gli altri magari avevano una giocata più semplice, un appoggio piuttosto che una palla filtrante. Quindi forse la differenza è stata quella, siccome c'è stato questo cambio di modulo repentino, quindi si è passati senza provarlo tanto, si è cercato di rimanere sui movimenti vecchi, cioè nel senso senza snaturare i movimenti già che ci portavano a avere un gioco corale e quindi tanti passaggi, tante occasioni da gol anche e questo forse ha penalizzato un po' il modulo perché l'abbiamo interpretato come se fosse sempre con due mediani senza fare i classici movimenti del 4-3-3 e questo forse ha penalizzato anche il modulo, però sicuramente era più semplice fare in questo modo piuttosto che cominciare a lavorare su un modulo nuovo comunque perché non l'abbiamo mai provato e quindi magari fare confusione e perdere la base diciamo che era il gioco con tanti passaggi e tanto possesso palla che ci contraddistingue. Dal mio punto di vista, quindi anche dal mio ruolo, in effetti cambia relativamente perché comunque la difesa è sempre a 4, se non si fanno delle grosse modifiche come il mediano che si abbassa tanto e va a fare quasi il centrale difensivo e quindi sono gli esterni che si alzano, alla fine i movimenti sono sempre quelli, ci sono giocatori diversi nello stesso posto e quindi magari quando so che, faccio un esempio, la palla arriva del pinto e io mi sovrappongo so che magari ci vorrà un tempo di gioco in più perché farà uno stop più un passaggio invece magari se la palla arriva a Falco so che me la può dare anche di prima, quindi è solo questione di capire chi ha la palla e come muoversi di conseguenza. Se hai sempre giocato in un certo modo e quindi l'hai provato anche in partita sicuramente ti aiuta a avere confidenza sul modulo. È come uno che ha giocato, si è sempre allenato bene però poi entra in partita, la prima partita è sempre spesato. Ci vorranno sempre uno o due partite per poi prendere il ritmo dei compagni e degli avversari perché comunque il sabato quando si gioca per i tre punti è sicuramente un ritmo diverso. Che non la guardiamo non è vero perché è ovvio che tutti guardano la classifica, quando finisce la partita si guardano i risultati degli altri, sappiamo dove siamo e quindi sicuramente quando si vince come dicevo prima c'hai uno stimolo in più, c'hai più tranquillità. Però non credo sia quello il nostro problema, non è che perché magari il primo posto si sta allontanando piuttosto che quelli dietro ci stanno avvicinando ci condiziona. E' ovvio che dispiace magari aver perso qualche punto in queste giornate perché abbiamo visto che Frosinone si è fermato una volta, una volta alla spalla, tutti si fermano. Quindi sappiamo che basterebbe avere un cammino un pochino più equilibrato e saremmo ancora lì senza fare dei grossi discorsi di occasioni perse o punti buttati via. Quindi bastava una vittoria in queste quattro partite e magari facevamo tre o quattro punti invece che due ed eravamo ancora lì attaccati. Ma allora la stampa nazionale sinceramente non ho avuto modo di leggere più di tanto. L'ambiente vedo che comunque c'è stato anche comunicato dalla curva che si è lamentato di chi ha fischiato quei pochi che l'hanno fatto. Quindi penso che un po' di maturità da questo punto di vista si sia vista da parte del tifo. Quindi io sono convinto che una buona prestazione e speriamo come dicevo prima magari un risultato figlio di un episodio positivo possa riportare tutto l'entusiasmo che c'era tre settimane fa. Io penso che comunque i giornalisti di Benevento analizzino sempre le cose con coerenza. Insomma è ovvio che quando uno sbaglia lo si sottolinea come quando uno fa bene viene elogiato. Insomma è normale che sia così.